Nuovi autobus, nuovi treni elettrificati, l'implementazione dell'applicazione Tua Abruzzo, una riorganizzazione complessiva delle sedi sul territorio, l'officina unica e la riapertura della carrozzeria andata a fuoco a Pescara. L'azienda unica del trasporto pubblico regionale traccia la rotta per il prossimo decennio a partire, come detto, dallo svecchiamento del parco mezzi, spesso inadeguato e vetusto. Sono stati acquistati 46 nuovi autobus, 18 già circolanti, 20 in strada da gennaio e i restanti nel corso dei prossimi mesi. Grazie ad un accordo con Trenord poi arriveranno nel 2021 due nuovi treni elettrificati sulle tratte gestite da Sangritana, oltre alla riorganizzazione delle sedi della Tua a partire da Chieti, dove sembrano ormai accantonate le polemiche sulla nuova sede di Brecciarola. Altre sfide per il prossimo anno? Beh, le sfide per il prossimo anno non potranno che essere quella di continuare un cammino appena iniziato. Avremo la necessità di formalizzare una serie di scelte forse difficili che riguarderanno il sistema manutentivo e il magazzino della Tua. Stiamo cercando partner internazionali e nazionali per creare nuove strutture capaci di dare una spinta immediata e importante alle problematiche connesse alla riparazione e alla manutenzione che contestualmente salvaguardi anche una presenza di persone all'interno in questo settore. Discorso a parte merita la questione strada parco. Il presidente di Tua, Giulianti, assicura che nelle more di una soluzione definitiva ci sarà comunque a breve la messa in funzione dell'asse di trasporto a nord di Pescara. Ci sarà un impegno per completare la strada parco anche se oggettivamente quello che la Tua doveva fare è stato fatto. In questo momento si sta discutendo con il Ministero, si stanno aspettando delle soluzioni ma nel frattempo riteniamo che se le cose dovessero andare per le lunghe creeremo anche le condizioni di un utilizzo della strada parco con dei mezzi ecologicamente adeguati e quindi comunque casomai cominciando su gomma ci sarà la possibilità di utilizzare la stessa.